Adesso passiamo ad un altro finalista che si chiama Marco, Marco è uno del complesso dei Lizard, vediamolo in pedana, eccolo qua. Marco alle tastiere, preparati alle tastiere, si presenta come solista questa sera, ci sono stati degli inconvenienti per quanto riguarda era un complesso, comunque Marco è molto bravo perché ci presenta una canzone scritta, musicata, ha fatto tutto lui questo ragazzo, arriva da Monza e il brano, Marco mi devi dire il brano perché non me lo ricordo più il titolo, stai calmo, stai calmo, mettiti a posto tranquillamente, non ci sono problemi. Allora riprendiamo naturalmente il cantante di prima e adesso restiamo, le signori della giuria devono votare questi giovani perché siamo, diciamo così, nel centro della serata, nel centro della finale. Allora annunciami il titolo del brano che hai preparato e poi ascoltiamolo. Marco dei Lizard. Ok, è un mio brano, si chiama Music Society, la dedico a mio padre. Allora annunciami il titolo del brano. Aprovechiamo. Allora annunciami il contatto dellazione Steinlρέ. Allora annunciami il clima nonCErica. Allora annunciami il titolo del brano. Comegijamo il titolo del brano. Allora annunciami il tese al corniverso e il titolo della storia. 춤 stai calmo, il titolo del paese. Grazie a tutti 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 Grazie a tutti